Così? Ok. Signor Pietro, ci puoi spiegare come mai il nome Carnezzeria? Ecco, Carnezzeria, questo nome è nato nel 1957, quando la buonalema di mio padre, avendo avuto la carnezzeria in due posti diversi, prima nel 1938 in Corso Vittorio Emanuele, poi nel 1955 ha comprato questo negozio e quando nel 1957 è stato abilitato per la carnezzeria, quando ha preparato di fare questa tabella, l'insegna di carnezzeria, quello che ha preparato, normalmente le magellerie dicono magelleria, però per noi la magelleria è il posto dove si magella, è un magello, chiamato magello, ma è magelleria, dove si magellano gli animali, dove si vendono carne, quello lì ci ha fatto questa opposizione, dove si vende carne si chiama carnezzeria. Questa tabella è nata nel 1000, è stato questo negozio aperto il 10 agosto del 1957. Ah, per questo dall'11 agosto voi venderete vitellina a 6,20 euro? Un 10 agosto del 2010, sono 53 anni di attività.